Torna a normalità il CUP di Sulmona dopo una giornata di disagi. Ad alzare la voce nella giornata di ieri sono stati numerosi utenti che si sono presentati al CUP per prenotare gli esami ma hanno trovato tutti i server bloccati. Un disagio che è stato risolto solo nella mattinata di oggi quando la situazione seppur a rilento è tornata nella normalità. A interessarsi del caso è stato il responsabile del tribunale per i diritti del malato Edoardo Facchini che ha avuto rassicurazioni sulla regolare ripresa del servizio. Permane il problema del rimborso degli esami prenotati ed effettuare rimarca Facchini spiegando come l'ASL Avezzano su Monalacuila dovrà pronunciarsi in merito onde evitare un salasso per gli utenti che sarebbero costretti a pagare le prestazioni sanitarie per una seconda volta. Il TDM già in passato precisamente nel 2012 aveva denunciato disagio al CUP con lunghe file e carenze di personale.